2 jump mandiamo trasmettitore e che scrivete a francesco doveva loggare sta allargando tutto il crisio qua ok è un bar che ti ha detto un bar voleva parlare voleva parlare in privato con terra se si crede che lo gestisci tu il team longbow longbow pinga pinga arrivo no 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 adesso vado a prendere il longbow c'è pure il caricatore stesso blu non lo ho comune ma non ce l'ho viola ma non ce l'ho viola chi? chi? che vino actalus ma non ce l'ho pregai sta partita ti faccio vedere che cos'è l'R45 si oh poi non ci si no non c'è l'ho guarda che non c'è neanche un'arricatura della wingman niente ehi ce l'hai? la stanta qua c'è il cogio se lo vuoi ha luttato un po' a culo no no l'ho luttato proprio qui pinot ah non l'hai luttato proprio no no ma come facevi sapere che c'era la longbow mi sembra che mi serve un caricatore leggero viola aspetta questo qui lo prendo se trovo un'arma decente ah beh ha luttato ma non queste due case dobbiamo sbrigarci ora però si si andiamo andiamo quindi anche il casco c'ho dar che aspetta adesso andiamo qua si si ho visto ho visto grazie grazie il portale è tuo bravo palloncino dov'è? no non lo voglio mi trovate un caricatore stesso per la carabina non vi dico nulla pure ah anche a me a crocello e ce l'ho bianco mi ha lasciato l'area 99 quel pezzo di merda lutto un attimo qua tanto non è un problema nooo il portale ho preso mannaggia il cristo ho preso il portale per sbaglio mannaggia il cristo si prendete prendete vuoi come si non c'è trovo qualcosa di utile qua ok 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 PAM PARA PAM 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 PARA PAM Adesso trovo un x3 sono molto contento vuoi andare di sotto? no no sape andiamo sopra andiamo sopra andiamo dentro che butto il robotino c'ho pure il drop pronto almeno qui sappiamo che non c'è nessuno dalle spalle venite voi curate io vi copro da qua chiama anche l'airdrop sono qui davanti almeno forse vengono vai vai chiama chiama oh vuol che ci blocca se c'è un casco dimmelo che non ce l'ho no c'è uno scudo blu qua vabbè qua sotto fight spottavi eccolo solo prima sul coso sono più di uno lock down qui giro one shot non lo pushate sì ho preso l'ho preso l'ho preso è morto è morto è morto è morto è morto sento sulla nave Sì, vabbè Voi stai a battere da vino Gli ho fatto 200 a quello Raga, eh vabbè Io ho detto che ho fatto 200 Sono andati via, resta Resta, resta, resta Bravi raga, me la ci ha vinto il 5 Dai raga, io mi stavo curando Mi servono le celle e scudo, Dio porco Sono una corazza Oh, no, fra il caricatore mi serve Eh, con Daniel Fai scambio Un calcio a viola e un caricatore blu Dammo, dammo, ti preoccupare Ah, si riesce a buttare il caricatore a viola Perché c'ho la R45, eh Non c'ho il cazzo di colpi Chi è qua? Dammi quello blu Sì, arrivo Sì, arrivo Grazie Mi serve una cazzo di celle e la scudola qua, eh Io non lasciate un paio di quelle piccoline lì dentro Ah, ma pure... Eh, dammele piccoline Lo lasciate lì dentro Qua ci sono tre, tre grandi Butta il robottino, Fran L'ho buttato Bravo Scudo viola qua, davvero? Dai, abbiamo tutti Buon minaccio digitale No, no, no Aspetta, non mi serve a me, no Niente più A me non c'aveva niente, regà Io tutti i besti al cappate Non mi serve nulla Si è trovato un minino per i plower? Aspetta Prendiamo la zipline e andiamo sopra a base aerea nei punti più alti Qua sparano però Vabbè, sono lontani, sono lontani Lo lascio, perdo Ci ho già pronto l'alto troppo io Eh, andiamo a base adesso Se riusciamo ad arrivare sarebbe meglio di là Dunque, quel drop non ci fa schifo comunque Ah, basta fare così Butto il drop Si, butalo qua sopra Qualcuno di tutto ti pare Andamolo a buttare, guardia bene No, devo buttarlo qui Eh, buttalo di sotto Allora, se li vedete che vanno lì Veditemelo Qualcuno ci andrà Sabe, mi crea un portale su quel drop Quanto vedo se c'è un massive Quello di sotto che ho buttato io Da dietro, da dietro Ma madonna No, guarda che sta pushando Eccolo, è sceso Lado Questo è morto Lado Brava Buona Oh, zaino vedogno d'oro Dai, cazzo Batteria scudo qui? Qua, qua, una Uh, zaino oro preso Con la life, la dai Anch'io Qua c'è una corazza d'oro Oh, scudo oro Arrivo Ah, non mi fa salire Eh, c'è la zippia, non dovresti prendere Arrivo Allora Sì, siamo creativo sopra Ho lasciato le 6 lì Aspetta Siamo ancora in safe qua Qua mi fa una roba sensata Lasciate Calma, calma Ho lasciato due fenizi La, lasciateli lì Qual casco vi ho L'hai preso? No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Dovrei lasciate le fenizi Lasciate qui davanti Lasciale lì Che mi sono preso un po' di granate in più Così in casa All'inizio di spambo di granate Me la voglio dire Tanto c'ho lo zaino oro No, no, lasciale lì Mi servono a me Che non le ho per niente Ah, ok, posso Anche io c'ho lo zaino d'oro Dove siete? Basta, 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 basta L'ho visto Arre 45 Su le mani Dove cazzo sono? Non li vedo Da dietro nessuno, vero? Shhh No Eh, da dietro non viene più nessuno Tanto la safe è piccola, raga Fanno, nascondì, no? Oh Stavo scherzando? Allora, aspetta Devo portare i fenix di qua Le hai presi tutte e due, Daniel Eh? Riesci a prendere tutti e due i fenix? O no, le prendo io Una sì Alza, vedi un'altra Ma queste tre squadre Dove cazzo sta una camparata? Ah, ma se devi Se dovevi lasciare i colpi Potevi lasciare lì Ok Abbiamo 400 colpi No, dico però 200 di power Sono 600 Tre squadre, tre squadre Sì, ma dove stanno? Allora, per me è una lì dentro Oh, da noi si chiude la safe? Sti cazzi Eh, a posto No, siamo in vantaggissimo Eh, se vede, sti cazzi No, infatti Per me ce l'hanno preso per favore Oh, erano già qua Già qua a camperare, secondo me Sotto di noi sicuro uno Aspetta, raga Non ci avete mai guardato qui dietro? Si può andare? No, no, no No? Eh Ma fra 15 secondi ci ritroviamo Tranquilli Sì, sì Mi c'ho le granate in mano Pronta apposta Ma non è che Perchè non mi sono preso con le granate là? Sotto da qua che parla Sbuccare Allora, vediamo un po' Vediamo un po' Allora, io guardo alla Se esce No, raga, non sono usciti Eccoli, ecco li, ecco li, ecco li, ecco li, ecco li, ecco li Ecco li, ecco li, ecco li Mamma mia Qui dentro, qui dentro Ah, brucia fogo eh Gli ho tolto un po' Un po' li ho tolto Noo Ah, fuori safe, fuori safe È rientrata Madonna che cancro Basta Non c'è in grado Ad usare a capino c'è a capino Ah, sì, ma l'altro Perché? Qui dentro non c'è Sì, ok, l'altra squadra Sarà capino Dovevo un attimo capire Qui non è Qua, raga, non c'è No, raga Questo muore in safe, lo dico io Cos'è, fuori safe che si sta curando Sì No, no, fuori safe che campero Fai una Ma sopra non c'è Soprò la dove stavamo noi nel frattempo Dal zipline Non è in safe, non è in safe Porco di, sto per morire Oh, ma dove cazzo è Ma dove cazzo è No, raga, questo c'è i medikit a manetta Sta fuori È impossibile No, dai, raga Il primo po' finiscono i medikit Allora, oh, allora Wright, Wright, ascolta Te dovrai fare un portale Che gira a manetta qui Che può fare anche da qui a qui Quando parte la safe Fai un portale che parte da qui a qui Così perdiamo tempo Tanto non può essere nascosto qua sotto No, Daniel, anche te Il life non ti editola per la fine Non lo speriamo Ce la faccio, raga Sì, sì 40 secondi Ah, ma raga, da film Non è male come invenzione Comunque, dai Ma non credo Ma all'ultimo Uno spazzito rimane, voglio dire Ma toglie un botto questa No, ma... Vabbè Non posso dire che lui è piccato In qualche texter E non prende danno Godizio, allora, dai E come va a finire sta partita, allora? Adesso si richiude e diventa... Moriamo No, è là dietro Raga, dobbiamo andarla a prendere Sennò moriamo Non casino Oh Dio, porco Ma dove cazzo è? Bah Che strano Che strano Cazzo spare Bah Francesco non ci sia diventato Ma assurdo Non si sa Me lo chiamo Ah, mi ha chiuso Francesco Aspetta, mi ha chiuso Mi sa Chi righi? Chi righi? O che dobbiamo fare? fra ha detto appena finisce il potere di giocare Fede entra al posto mio e devo provare una cosa da solo oh ma che è tutti qua questi cambi Davide vado a fumare nel suo tempo Vado a fumare nel suo tempo Ma cosa è oggi? Morire di accanto al secondario! Zio di chiavica! Zione, ti devo carriare? Zione, ti devo carriare? Carriare! Carriare! Facciamo divertire lo zio! Giornata ragazza! A proposito, a proposito, guardate il gruppo di gestione poi ... 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 stanno andando a prenderli finiteli finiteli lascio l'ultimo che sbucherà c'è la corazza lì non so dove ah madonna lascio questo è un altro team questo è un altro team si si sto facendo un portale me lo puscio io ah madonna è andato del flusso ma scemo di merda si si ah non lo so arrivo arrivo prendi il portale se vuoi puoi tornare qua col portale vieni qua vieni qua prendili prendi il portale si prendilo prendilo c'è ancora il portale dentro però veloce veloce eh dai sti stanno pushando tutti voglio il portale davanti eh vabbè t'ho detto io no ma che viene di te torna qui torna qui torna qui perchè torna torna qua chi è a terra chi è a terra curati 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 frega niente li sono in tre di boh non c'hai niente prendilo te il portale fra vai spostati io sto coprendo se prendono il portale vai resta 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 l'ha preso? perchè è fumoso là lì? fra perchè? cosi non vediamo eh ma cosi non vediamo quando arrivano non vediamo non vediamo quando arrivano il fumo da dove devono venire cazzo cosi ci inculano ci devi curare buttati via ci devi curare buttati via che non vediamo